Possiamo iniziare e prima di tutto un'informazione che questa mattina non è stata data, tutte le informazioni che presentiamo oggi sono presenti sul data warehouse dell'Istat, i.stat, sotto la voce censimenti e quindi abbiamo inserito credo il 90% di tutte le elaborazioni possibili dal censimento, altre potranno essere aggiunte anche sulla base delle discussioni, degli approfondamenti anche della giornata di oggi che ci potrà dare delle idee per nuove incroci e nuove informazioni da rendere disponibili e quindi da caricare sul data warehouse. Tutte le informazioni sono disponibili, non quelle che tratteremo in questa sessione, perché in realtà noi se il titolo della giornata di oggi è le sfide emergenti per il settore e la società italiana del non profit, quello di cui parleremo in questa sessione certo non dico che è la cosa più importante, ma forse è la cosa più innovativa, tant'è che cercheremo di andare oltre quella che è la definizione che è stata utilizzata per il censimento, cioè il settore non profit come storicamente conosciuto, il secondo censimento che facciamo anzi il terzo con quello del 99 come Istat, quindi qui invece cercheremo di introdurre un concetto che si è sviluppato negli ultimi anni, le novità del settore sono state ricordate stamattina, non voglio rubare tempo alla discussione, non le ripeto, uno di questi aspetti è quello dell'economia sociale e quindi andare a definire un insieme che è diverso, che può essere un po' più ampio, per alcuni versi un po' più stretto è da discutere e quindi è questa effettivamente e realmente una nuova sfida che insieme a tutti i membri della sessione che sono qui al Tau della Presidenza abbiamo accettato e sulla quale abbiamo ragionato per arrivare nella giornata di oggi innanzitutto a delle prime ipotesi di definizione del settore, delle prime quantificazioni e poi delle analisi, delle tre relazioni che non si limitassero ad analizzare il censimento non profit e quindi 301 mila unità censite ma che a queste aggiungessero anche le informazioni non per definizione incluse nel concetto di settore non profit come è conosciuto ma che fanno parte e quindi allargano questo settore in qualche modo a quello che si sta tentando di definire e quindi poi misurare come economia sociale. Io non vorrei dire altro e quindi ci sarà come tutte le altre sessioni sono organizzate con una relazione introduttiva, un keynote speech realizzato dal sottoscritto e da Nereo Zamaro che inizierà la presentazione e poi gli interventi di approfondimento su questo insieme che definiamo appunto economia sociale. Io non rubo altro tempo, mi fermo qui e do la parola a Nereo per iniziare la presentazione. Grazie. Grazie. Come vedete in questa prima slide la nostra presentazione sarà divisa sostanzialmente in due parti. Anche a causa del mio ritardo accelererò soprattutto la prima parte per lasciare più tempo a Maglio per illustrare i dati molto interessanti che sono stati elaborati in queste ultime settimane. Nella prima parte la mia intenzione era quella di introdurre alcuni concetti. Premetto immediatamente che per molti dei presenti i concetti che vengono presentati, che saranno presentati sono noti, sono concetti noti, posso dire abbastanza tranquillamente che invece sono ignoti se considerati dal punto di vista delle statistiche ufficiali e quindi è bene comunque richiamarli perché è bene capire un po' più da vicino come invece coloro che si occupano di produzione statistica ufficiale poi quando si ritrovano a macinare i concetti lì come li trattano. Nella seconda parte della presentazione insisto verranno presentati alcuni dati secondo alcune dimensioni di analisi interessanti e generali. Li abbiamo chiamati i dati di cornice in questo senso. La presentazione finirà sostanzialmente ribadendo alcune linee di sviluppo della produzione statistica ufficiale per quanto riguarda la presentazione dell'economia sociale. Allora in primo luogo quando si parla di economia sociale noi abbiamo un problema proprio generale iniziale che è molto semplice ed è il seguente. Ci chiediamo immediatamente che cos'è l'economia sociale, se è un settore, se è un campo economico, se è identificabile ed eventualmente se il nostro sogno è proprio quello di identificare il settore abbiamo bisogno di infrastrutturare l'osservazione con una definizione riconosciuta con un sistema di classificazioni che ci consenta di rappresentare in modo adeguato e valido le attività che questo settore, questo gruppo di unità istituzionali sviluppa. E la domanda fondamentale questa sera è la seguente. Ma abbiamo un apparato, un sistema di definizione delle nomenclature affidabili da questo punto di vista. Alla fine della storia vedrete che la risposta non può essere sì, non può essere no, la risposta è un ni, nel senso che abbiamo un sacco di informazioni, abbiamo una struttura informativa grazie alla quale possiamo affidabilmente cominciare a fare delle elaborazioni ma man mano che facciamo queste elaborazioni ci accorgiamo anche che la strada da percorrere ancora è lunga, i problemi che emergono non solo statistici ma anche di analisi proprio, di rappresentazione del fenomeno sono più di uno. Quindi questa scheda dico sostanzialmente sinteticamente, vedete quando si parla di economia sociale parliamo di un'idea che ha una storia molto lunga, i più raffinati tra di noi possono fare riferimento addirittura ai primi decenni dell'Ottocento per riportarsi alle prime radici del dibattito in epoca, attenzione, inizio Ottocento, Francia significa poco dopo la rivoluzione francese molto prima dell'enciclica di fine Ottocento, molto prima dello sviluppo dei movimenti operai socialisti o comunisti nella seconda metà dell'Ottocento. Stiamo parlando quindi di un fenomeno ideale e soprattutto in termini ideali che ha una lunghissima storia che oggi fortunatamente non tratteremo. Questa lunga storia ha avuto vicendi alterne, la nozione è stata arricchita, svuotata, arricchita e svuotata varie volte di concetti anche alternativi, alla fin fine però è rimasta la natura, come dire, logica della nozione, un concetto multidimensionale che non si può rappresentare almeno dal punto di vista statistico in modo elementare o banale, banalizzandolo o se non banalizzandolo e anche oggi disponiamo di più definizioni, direi non solo più definizioni a seconda del contesto istituzionale ma anche più definizioni a seconda dell'approccio culturale al tema e questo complica il quadro. Devo dire che da questo punto di vista la statistica ufficiale ha una fortuna che è quella di fare riferimento a profili istituzionali dei fenomeni. Io dico spesso, anche se non c'entra molto, che gli statistici non rappresentano mai gli innamoramenti, a malapena riescono a dare buoni dati sui matrimoni, anche nel caso del... non è così semplice... però anche in questo caso insomma avremmo bisogno di una definizione solida e voi sapete bene che in Italia ad esempio se parliamo della statistica ufficiale italiana non abbiamo una nozione di economia sociale, abbiamo una nozione di impresa sociale che ogni volta che viene citata al professor Burzaga si iniziano i cappelli, ve ne dice, è una legge sballata, quindi non condivisa diciamo no dal punto di vista né delle politiche né dal punto di vista di analisi proprio economico o imprenditoriale e quindi la domanda è ma allora che cosa possiamo fare? Non possiamo usare fonti diverse, se noi vedrete abbiamo usato una fonte europea ma anche la fonte europea può essere variabile nel tempo, quindi anche da questo punto di vista quando il dottor Calzaroni parlava di prima sperimentazione ha un ben che dire perché insomma non possiamo ancora contare su un sistema di definizioni. Qui dico come la misurazione statistica che si muove da ultima rispetto a tutti questi processi, ovviamente sta muovendo i primi passi, anche se mi pare che stasera i vari primi passi, le varie presentazioni faranno vedere. Non voglio disturbarvi troppo neppure sulle esigenze conoscitive generali ma è evidente che l'interesse soprattutto in questi ultimissimi anni, 5 o 6 anni per il mondo dell'economia, già c'era prima anche in Italia naturalmente ma è, come avete sentito questa mattina, è stato particolarmente enfatizzato in parallelo, in correlazione con la crisi economica che negli ultimi 5 o 6 anni sta attraversando il nostro come altri paesi. Voglio solo fare una battuta, in questi stessi anni si sviluppa anche oltre all'idea, i ragionamenti sull'idea di economia sociale si sta sviluppando, si sta rafforzando la discussione anche intorno alla nozione della cosiddetta corporate social responsibility ed sarebbe interessante anche poter valutare sempre dal punto di vista non statistico ma almeno ideale come mai si stanno affermando questi filoni di pensiero o di analisi per la rivalutazione del contributo delle imprese e in particolare delle imprese capitalistiche all'equilibrio, all'ordine sociale. Dico questo non tanto dal punto di vista delle idee quanto invece dal punto di vista della necessità di separare le cose. Bisogna stare attenti a non infilare così arbitrariamente coloro che fanno politiche di corporate social responsibility all'interno del sistema, chiamiamolo del settore dell'economia sociale. È un dettaglio forse ma bisogna stare attenti perché c'è un po' di confusione quando si sentono i dibattiti intorno a questi due aspetti. Per quanto riguarda l'idea di economia sociale o di insieme delle imprese sociali che dovrebbero, come dire, dovrebbe formarlo, ci sono due aspetti che è importante sottolineare. In primo luogo perché si leggono riferimenti di questo tipo sistematicamente e quindi sono anche dal punto di vista, diventano anche dal punto di vista della misurazione delle provocazioni, misurazione statistica delle provocazioni concettuali. La prima è la seguente. Quando si parla di imprese sociali, spesso si parla o sempre più spesso si parla, anche stamattina qualcuno ha fatto dei riferimenti in questo senso, della connessione tra il fare impresa sociale e fare innovazione sociale. È una nozione in altri termini quella di impresa sociale collegata strettamente in molti discorsi con le nozioni di cambiamento e di intervento nella vita delle comunità. Voi sapete bene che un'altra nozione che sta girando è quella di innovazione sociale. Si tenga presente che questa nozione, pur essendo centrale, fa riferimento, come si legge in questa slide, a tutta una serie di procedure attraverso le quali le decisioni che riguardano i progetti, il finanziamento dei progetti, la loro finalizzazione, avvengono in modo aperto e contendibile nel dibattito pubblico. Questo è un aspetto da non sovrapporre immediatamente agli aspetti che invece vengono ritenuti rilevanti per la caratterizzazione dell'impresa sociale. Non è necessario fare imprese sociale per fare innovazione sociale e viceversa, non è vero che tutte le imprese sociali sono naturali per innovative o innovative socialmente. Però siccome è una cosa su cui si ragiona, era bene, era opportuno chiarirlo. L'altro elemento centrale, e questo invece è davvero centrale, ed è centrale soprattutto quando noi andiamo a guardare non tanto la produzione normativa italiana, ma la produzione normativa in altri paesi, la caratteristica come dire, la genetica più profonda, la genetica istituzionale più profonda dell'impresa sociale e la scommessa più profonda che i sostenitori dell'impresa sociale e dell'economia sociale stanno giocando o propongono di giocare è quello di avere delle imprese che riescono a conciliare degli scopi di impresa che sono rivolti genericamente, uso questo termine solo in senso generico, al benessere della comunità e di coloro che partecipano del processo di produzione. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto, questo benessere delle comunità in cui le società, le imprese sono inserite, dei lavoratori che in essi operano, dei beneficiari, dei servizi che ottengono, sono connesse con la possibilità di produrre un reddito, un profitto e anche di distribuire un reddito e un profitto. Immediatamente capite che il sistema dell'impresa sociale sopravanza il settore rappresentato dalle istituzioni non profit per le quali poteva valere e vale a pieno titolo il primo aspetto ma non il secondo poiché come ricorderete e come sapete tutti benissimo anche in quel caso il reddito poteva essere ed è auspicabile che venga prodotto ma non può essere poi distribuito. Anche se in questo caso, come sempre Carlo Borzaglia potrà dirci magari con la battuta, poi noi tra le istituzioni non profit abbiamo anche messo delle istituzioni che un qualche reddito non solo lo producono ma possono anche in una minima parte se volete ma anche distribuirlo. Ma questi poi sono dettagli. Il punto più delicato ovviamente qui si parla di duplice natura di questa istituzione, di natura mista o ibrida di queste imprese sociali. Dal punto di vista pratico la cosa più delicata, vediamo se riesco ad esprimerla guardando un po' quello che succede negli altri paesi. Noi abbiamo, parlo dopo dell'Italia, in molti paesi in questi anni si è affermata una legislazione che riguarda le imprese sociali, qui cito una serie di paesi, non ricordo quali sinceramente, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna ma anche Canada, soprattutto il Quebec. Gli Stati Uniti e mi piace sempre ricordare che almeno tre nazioni di nativi indiani negli Stati Uniti hanno prodotto norme sull'impresa sociale a difesa ovviamente degli interessi della comunità per lo sviluppo della comunità eccetera. Però tutte queste norme pur essendo appartenendo tutte alla stessa famiglia non si articolano nei loro contenuti in modo identico. D'accordo? Noi fortunatamente, almeno io fortunatamente non mi occupo di diritto societario ma è evidente che se dovessimo fare riferimento nella definizione delle imprese sociali e dell'economia sociale alle norme dal punto di vista della misurazione statistica abbiamo almeno due problemi. Uno come incamerare nella procedura di identificazione tutti i contenuti normativi. B come comparare tra di loro oggetti o misure statistiche che fanno riferimento a tipi di istituzione o di impresa che poi hanno una natura, hanno un comportamento, lavorano sotto vincoli diversificati. È un problema che magari non tocca ai giuristi risolvere ma per gli statistici poi alla fine siccome amano sommare cose che possono essere sommate, sottrarre, dividere cose per le quali abbia senso sia far sottrazioni che divisioni, queste sono cose abbastanza delicate. Qui faccio tutta una lista che poi potete verificare per conto vostro di queste nuove forme giuridiche. L'ultima battuta è molto importante perché riguarda il problema pratico del capire se questo doppio interesse viene rappresentato in pratica oppure no. Perché una cosa è il regno dei sogni, mettiamo l'interesse per la comunità e mettiamo anche l'interesse per il profitto assieme per la distribuzione del profitto e tutto andrà a posto. Siccome queste forme di impresa sono anche abbastanza recenti, allo stato attuale non disponiamo di informazioni sistematiche su come sia andata a finire. Sappiamo che in molti casi alcune forme di impresa sociale producono buoni risultati dal punto di vista del cambiamento in ambito comunitario, ma non sappiamo quanto abbiano incontrato gli interessi degli azionisti di riferimento o dei finanziatori di riferimento. Avrei potuto dire cose più positive ma questo è lo stato dell'arte. Per quanto riguarda l'Italia, qui non mi funziona l'attrezzo, molto velocemente qui riporto una slide che in qualche modo ricarta calca la relazione introduttiva al disegno di legge di cui si è parlato stamattina dell'onorevole, credo senatore Lepri. Mi interessa presentare questo schematismo perché stamattina siamo stati abbastanza veloci nel liquidare quel disegno di legge come un buon disegno di legge in tutte le sue parti. Invece, come sapete, questo è un grande Paese da questo punto di vista, ci sono una serie di osservazioni che stanno emergendo sui contenuti di quella proposta di legge. Magari oggi se rimangono alcuni minuti, alcuni dei partecipanti potrebbero intervenire. Ma al di là di questo, attenzione, la 155 mi pare che tutti condividano sulla 155 un punto che non funziona. Adesso non ho dati aggiornati ma credo che siamo sulle 7-800 unità e quindi corro. Faccio solo due precisazioni poi lascio la parola al dottor Calzaroni. Questa è una prima definizione che presento, è una definizione che è stata diffusa nel 2008 ed è, dipende da una risoluzione del Parlamento europeo. Quello che è interessante in questa definizione è che se non ricordo male, vediamo se è rimasto lo schema, sì, si utilizzano 15 criteri per identificare, in queste 10 righe, 15 criteri per identificare le istituzioni non profit, riguardano la governance, la proprietà, la distribuzione dei profitti, i processi decisionali, i tipi di attività o meno e quant'altro che possano essere utilizzate come dimensioni per l'inclusione nel sistema. Vi renderete conto, rileggendola, che è una cosa molto difficile poi da applicare. Fortunatamente più recentemente è uscita quest'altra, è stata pubblicata quest'altra definizione nel 2013. In questo caso, per dire la stabilità delle cose nei tempi, delle definizioni nei tempi, si utilizzano quattro criteri per arrivare a definire l'oggetto del desiderio, cioè che cos'è un'impresa sociale e di che cosa è fatta un'economia sociale. Noi abbiamo lavorato, ma su questo ragionerà meglio il dottor Calzaroni più tardi, su questa seconda definizione. Qui vedete, ve li presento preliminarmente e velocemente io. Nelle imprese sociali i diritti della proprietà sono trattati in via secondaria rispetto ai diritti dei portatori di interessi sull'attività. I portatori di interessi vengono coinvolti sistematicamente e partecipano all'assunzione delle decisioni. C'è un orientamento a privilegiare i beneficiari e il lavoro piuttosto che la redditività del capitale investito. E l'ultimo punto abbastanza delicato naturalmente è che i processi decisionali all'interno delle organizzazioni devono essere democratici. Quindi nel processo decisionale le persone contano di per sé, non per quanto contribuiscono in termini di capitale. Questo elemento ovviamente produce una serie anche di conseguenze pratiche se ragioniamo in termini di istituzioni che possono produrre seppure un basso profitto, che possono distribuire. Qualcuno potrebbe argomentare anche sulla non semplice applicazione di questa regola in termini di distribuzione. Su questo qui riprecorro in questa scheda tutto il processo che in qualche modo noi dobbiamo seguire per la misurazione statistica, per riconoscere le unità, per misurarne le attività, i fattori che contribuiscono alla realizzazione dei risultati ed eventualmente verificare se ci sono delle dimensioni distintive. Un'ultima precisazione, Maglio, e poi ti passerei la parola anche se non ho ragionato sul sistema dei conti perché non ce la faccio e anche perché rischieremo di essere molto noiosi. Date queste definizioni, data la loro variabilità, data la loro eccessiva ricchezza concettuale, se posso usare questo termine, alla fine noi abbiamo deciso di lavorare sulle forme giuridiche per selezionare le istituzioni. Lo abbiamo fatto anche perché per alcuni tipi di imprese abbiamo informazioni molto ricche, per altri tipi di imprese allo stato attuale, pur avendo molte informazioni molto importanti, non riusciamo ad avere un set sufficientemente cospicuo di informazioni da poter decidere in via completa la loro attribuzione al settore dell'economia sociale. Alla fine di questi ragionamenti e all'inizio della storia statistica abbiamo incluso nel sistema delle cosiddette imprese sociali o di quello che potrebbe diventare il settore dell'economia sociale le cooperative, anche le banche di credito cooperativo o le cooperative proprietarie, peraltro di società di capitali, le mutue, le istituzioni non profit, attenzione, le istituzioni non profit economicamente rilevanti diventano un sotto insieme del settore dell'economia sociale, ripeto, un sotto insieme, una sottopopolazione. Poi ci sono anche più recentemente le organizzazioni di microcredito per il commercio eco, il consumo critico, eccetera, che si stanno sempre più affermando e non mi dimentico delle imprese sociali che sono poche, centinaia, la legge non ha funzionato ma ci sono comunque, debbono essere considerate. L'ultimo lancio, davvero l'ultimo lancio che faccio rispetto all'intervento successivo e non tratto questa materia dal punto di vista della contabilità è il seguente. La domanda fondamentale è ma perché la statistica ufficiale deve occuparsi di questa materia? La risposta sostanziale è perché è importante, perché abbiamo sentito anche stamattina, è importante per il Paese la funzione civica dell'economia sociale, però questo rimane comunque una valutazione molto personale o legata alla cultura di alcuni o di molti di noi, in realtà sempre nella risoluzione del Parlamento europeo del 2008 alla statistica ufficiale viene chiesto esplicitamente in due paragrafi di lavorare per il riconoscimento statistico delle imprese sociali e dell'economia sociale. Questo è un passaggio per gli statistici ufficiali non secondario, perché può diventare una missione sotto certe condizioni e in particolare qui chiedono al dottor Calzaroni di mettere in piedi dei registri e la domanda è siamo in grado di mettere in piedi dei registri statistici naturalmente che ci consentano di rappresentare questa cosa che chiamiamo imprese sociali o economia sociale. La seconda domanda, in questo caso non viene rivolta direttamente al dottor Calzaroni ma a tutto l'istituto, è quella di lavorare come se fatto in passato per la produzione dei conti satelliti delle istituzioni non profita anche per la produzione di un conto satellite coerente col sistema di contabilità nazionale ma che opera in parallelo in modo da poter distinguere il contributo specifico dell'economia sociale costruendo un conto satellite. E così passo la parola immediatamente al dottor Calzaroni. Allora andrò velocemente, molte cose le ha già dette Nereo quindi diciamo da questo escursus teorico concettuale il mio compito è quello di mettere le mani non solo nella cucina per capire praticamente cosa significa tutto ciò per un istituto nazionale di statistica. Prima di tutto confermo la disponibilità di informazioni che ci sembrano essere come universo, come basket, come repository di informazioni di tutti i tipi sufficienti a rispondere alle domande e chi ci stavano facendo. Detto ciò le difficoltà quindi sono di due tipi, uno individuare i segnali che all'interno di questo repository di tutte le unità giuridiche individuano e caratterizzano prima e quindi individuano dopo quello che è il mondo dell'economia sociale. Secondo da puntista teorico che quindi partendo dalle definizioni che comunque in parte è stata data ma sicuramente dovrà essere approfondita, individuare quali sono le caratteristiche di questa economia sociale. Secondo verificare la disponibilità di questi segnali all'interno degli archivi che noi abbiamo o una proxy e quindi rendere operative questi concetti per poter identificare queste unità. Io qui non sono un neofita del settore, non mi spaccio per rispetto ai no profit, diciamo mi spaccio come statistico economico e quindi mi è venuto spontaneo riportare quella che è la definizione di impresa, non di impresa dell'economia sociale ma di impresa che è la definizione Eurostat, tutta qua, non ho tagliato nulla, questa è tutta qua e è questa che è così dal 93, quindi è una delle prime definizioni e quindi mi sembrava opportuno perché poi in realtà ci sono delle descrizioni che spiegano e che dei regolamenti e delle circolari esplicative che ovviamente dal 93 a oggi hanno reso operativo questa definizione che ci permettono di dire che ci sono almeno due caratteristiche comuni al concetto di economia sociale piuttosto che al concetto di economia e che sono queste due, la produzione di beni e servizi o la messa a disposizione di beni e servizi, la stabilità della struttura, se non sbaglio nel termine inglese si parla di struttura sufficientemente stabile anche nel regolamento delle imprese. Dall'altra parte quelle sono già le definizioni, i cardini delle quattro definizioni, qui ne ho riportate tre, la quarta è quella dell'amocrazia di cui parlava prima Zamaro che ho messo soltanto per ricordarle. Detto ciò, a partire da questa definizione noi abbiamo di fatto due universi su cui poter lavorare, uno è quello che qui in qualche modo chiamo archivo delle unità giuridiche che è costituito da circa l'unione dell'integrazione di circa 40 archivi di fonte camerale, fiscale, previdenziale, assicurativo e altro, che costituiscono la base di tutte le unità giuridiche presenti nel sistema italiano e che sono la base per la costruzione di tutti i registri statistici sulle unità economiche che l'Istat correntemente produce. Il secondo bacino, è ovvio dirlo in questa occasione, è il censimento delle unità non profit. Prima sottolineatura importante, tutte 301 mila unità che abbiamo censito sono presenti nell'archivio delle unità giuridiche, questo ci rafforza, lo dico come responsabile del settore archivi, mi rafforza la convinzione che quindi questo archivio delle unità giuridiche, tanto per rendere conto di cosa stiamo parlando, stiamo parlando di circa 12 milioni di unità giuridiche, ma perché ci sono anche quelle morte da 10 anni che nessuno leva, ci sono i condomini, c'è di tutto, ci sono le parrocchie, se le parrocchie fanno un'attività, quindi è veramente tutto, le 301 mila unità censite le abbiamo tutte tranne, quindi possiamo lavorare, e questo credo sia un buon indicatore di qualità sul fatto che possiamo lavorare su questa ipotesi. Quindi sulla base delle forme giuridiche e di quelle indicazioni date prima, noi il primo insieme che abbiamo individuato per questa sperimentazione che abbiamo fatto e che presentiamo in questa lezione, di economia sociale extra le 301 mila unità censite, sono queste tre tipologie di enti, le ex istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza, ex IPAB, le cooperative non sociali, perché le cooperative sociali ovviamente sono integrate nel censimento, e le imprese appartenenti a gruppi di imprese controllati da una cooperativa. Che cosa significa quest'ultima cosa? L'Istat produce dal regolamento europeo dei dati sui gruppi di impresa, ci sono dei gruppi di impresa che hanno a vertice controllante una cooperativa, allora in maniera concorda con tutte le persone che stanno a questo tavolo abbiamo detto se la controllante è quella che dà le politiche, quella che decide i modi di lavorare, i modi anche di distribuire gli utili probabilmente, se la controllante è una cooperativa, è possibile che questo modo di essere della cooperativa, tra virgolette, si trasferisca a tutte le imprese controllate, anche se lì dentro c'è una SPA, tanto per essere esplici e chiari, è un'ipotesi, non è detto che non possa essere discussa, ma era un'ipotesi da cui ci sembrava importante partire, uno degli obiettivi era questo anche in questa occasione, creare un sottinsieme il più ampio possibile, quindi rischiando di lasciare dentro cose che non sono economia sociale, per poi affinare e eliminarle dopo, ma preferendo questo all'errore di seconda specie, diremmo noi statistici, e cioè di lasciare cose fuori che invece poi un domani ci ricordiamo o capiamo o qualcuno ci suggerisce anche tra voi magari dire no, vi siete scrutati questi, quindi il tentativo è stato questo, in questa ottica abbiamo inserito anche queste. Su tutte queste, non mici di lungo, è stato effettuato il processo normale di produzione di un registro statistico e quindi sono stati definiti innanzitutto lo stato di attività, se sono attivo o non meno, l'attività economica, che cosa fanno, gli addetti, la localizzazione, il fatturato che sono fondamentalmente le informazioni che da regolamento europeo dobbiamo dare per tutte le unità economiche presenti nel nostro sistema. Dal censimento abbiamo due opportunità, uno prenderlo tutto e dire tutto il censimento è economia sociale, 301 mila rotti, ne abbiamo parlato da Bizzeffe, seconda opportunità di cui io sono uno dei fautori in disaccordo con alcuni dei presenti, un dibattito che riportiamo anche qui in massima trasparenza e laicità, è quella di dire, ma considerando che qui stiamo parlando di economia sociale e quindi faccio preparare la mia anima di statistico economico, che cosa significa poi? Che deve essere stabile, e questo è valido, l'ho detto prima per tutte, una unità stabile, e nella pratica che cosa significa unità stabile? Per le imprese normali, non profit, profit scusate, non quelle non profit, significa che hanno o fatturato o lavoratori retribuiti, cioè hanno il famoso libro paga. Queste sono due proxy, proprio perché poi in realtà è difficile andare a definire un'impresa stabile, che viene usata non da regolamento perché poi ogni paese europeo può avere delle diverse opportunità in base alle normative e alle informazioni disponibili. Per noi questo è la proxy che usiamo noi e quindi questo è stata quella che abbiamo cercato di applicare per creare e cercare all'interno 300.000 questo nocciolo che a me mi viene di dire il nocciolo duro, il core dell'economia sociale perché è molto più vicino alla parte economica. Addetti e fatturato, e lo dico in maniera anche strumentale perché sono le uniche due informazioni oggi disponibili per fare un confronto tra il settore dell'economia sociale che riusciamo a tirare fuori secondo queste definizioni e il resto dell'economia privata e quindi anche strumentalmente ci faceva comodo. E qui vado alla conclusione facendo alcuni numeri. Allora 301.000 sono le unità censite, 681.000 addetti, 64 miliardi di euro che non è il fatturato bensì il totale delle risorse disponibili. Facendo questa cernita, non mi ripeto, abbiamo 115.000 unità, ovviamente 681.000 lavoratori perché basta che c'è un lavoratore dipendente fa parte l'insieme, questo invece è il fatturato effettivo, cioè il fatturato che sta all'interno degli archivi dell'agenzia delle entrate, tanto per capirci, e risulta 12 miliardi di euro. Cooperative non sociali ex Sibab insieme sono 51.000 soggetti, circa 800.000 addetti, 107.000 miliardi di euro. Ultimo punto, le imprese controllate da gruppi con a capo, con a vertice, una cooperativa. Stiamo parlando di 2.500 imprese, sono poche, ma ci sono ben 116.000 addetti e 25 miliardi di fatturato. L'ultima riga sono i dati delle imprese private così come sono state censite, sono 16 milioni di addetti e 3.000 miliardi. Ci siamo divertiti. Il raffronto tra il 1.600.000 addetti fondamentalmente dipendenti che abbiamo così enucleato come economia sociale e i 16 milioni, stiamo parlando del 9,7% di addetti nell'economia sociale rispetto al mondo privato. Non è rispetto al totale, è l'economia sociale contro le imprese private. In termini di fatturato siamo al 4,6%. Mi è subito balzata gli occhi la dimensione, è tutt'altro che piccola. Basta vedere i dati delle ultime due colonne dove le imprese oltre da 20 addetti in su rappresentano il 14, il 23, il 17% in termini di addetti e anche il doppio di fatturato rispetto alle più piccole. Parentesi, è ovvio, tutte le piccole, piccolissime che non hanno dipendenti, che non fatturano, stanno nelle 185 mila no profit censite che non ho messo qui dentro, però è evidente, quindi questo è il core, quello che dal punto di vista economico è sicuramente rilevante e questo credo che lo dica. Secondo esercizio dato per regione, anche qui mi ha stupito che in termini di peso, non in termini di valore assoluto ovviamente, rispetto agli addetti privati non c'è questa prevalenza nel nord rispetto al sud, come se analizziamo il no profit da solo viene evidente, abbiamo da 400 mila a 100 mila addetti, è banale, è un quarto. In termini di peso rispetto alla struttura economica abbiamo una situazione ben diversa che credo che meriti approfondimento. Ultima e concludo, ultima rispetto alle attività economiche, soltanto in termini di addetti non abbiamo fatto in termini di mettere il fatturato, si vede qui il peso dell'economia sociale, così come l'abbiamo definita in questa sperimentazione rispetto al totale degli addetti per attività economica, ci sono 64 mila addetti in ultima riva, c'è un problema di agricoltura eccetera che non siamo riusciti ancora a collocare per problemi solamente di tempo e si vede come poi in realtà è ben basso il peso nel settore primario e secondario, quindi nel manifatturiero ma anche nelle costruzioni, sale, non vi spaventate, non è un errore, il 247% nell'istruzione, abbiamo 185 mila addetti nell'istruzione no profit contro 74 mila addetti nell'istruzione privata, ovviamente manca il milione della pubblica amministrazione e idem variabili alte per la sanità per evidenti motivi analoghi a questi. Non mi fermo qui e concludo, abbiamo buttato come diceva qualcuno il cuore al di là dell'ostacolo nel fare queste elaborazioni, io credo che dire che questa definizione provvisoria di economia sociale pese al 9,7% di addetti e al 5%, 10,5% se vogliamo arrotondare in termini di fatturato è un dato che a me ha sorpreso, mi aspettavo meno, mi sono già dichiarato come non esperto però mi ha sorpreso. Detto ciò, che cosa possiamo trarre da questa prima elaborazione? Abbiamo la disponibilità di risorse esaustive per costruirlo, quindi la possibilità di costruire un registro statistico ad hoc ce l'abbiamo, serve approfondire il concetto di economia sociale e definirlo, serve trovare delle regole applicative, non abbiamo preso assolutamente in considerazione la regola della democrazia nella scelta di economia sociale, non sapevamo dove andarla a prendere, quindi va capito se questo potrebbe allargare o stringere di molto questo insieme che così abbiamo costruito, non abbiamo informazioni e quindi rendere operative. Ultima cosa è quello della importanza, già l'ho detto, del peso dell'economia rispetto a tutta l'economia nazionale e quindi la rilevanza sarà oggetto dell'ultima delle relazioni della importanza che la statistica ufficiale costruisca, da una parte il registro statistico prima e poi il conto satelliti ad hoc perché appunto le disponibilità ci sono. Grazie. Cambio cappello e quindi non perdo tempo e do la parola a Borzaga Carpita per la prima relazione che appunto sempre su questo universo farà approfondimenti sicuramente più dettagliati dei miei. Ecco noi ci siamo concentrati, più o meno abbiamo concordato la definizione di economia sociale, io credo che sia in questa fase corretto definirla in questo modo perché si parte in sostanza dalla proprietà delle organizzazioni, dimenticando alcuni aspetti tanto cari ai francesi che hanno formulato la definizione come la democraticità perché sono tutti da definire, possono essere fondazioni assolutamente democratiche anche se sono fondazioni cooperative che lo sono poco, quindi credo che anche nel ridurre da 14 o da 16 criteri a 4, in realtà se voi guardate i 4 criteri individuati nella seconda definizione sono quelli che contano, gli altri sono criteri abbastanza collaterali a quello generale, è chiaro che se io devo far partecipare gli stakeholder devo essere in qualche modo democratico, poi democratico non vuol dire una testa a un voto, siamo a livello di impresa, quindi è tutto un discorso da fare. Credo che questa definizione che ha dato Calzalone e questa quantificazione basata sulle forme proprietarie, quindi sulle forme giuridiche, stia in piedi almeno in questa fase e sia comunque utile per individuare un nucleo di attività economiche che operano nell'interesse degli stakeholder diversi dai reazionisti, questo è l'elemento di fondo, cioè non hanno obiettivi di profitto, hanno altri obiettivi che non vuol dire che non abbiano significato economico, non sono imprese sociali, sono imprese dell'economia sociale, privilegiano un esito, un vantaggio degli stakeholder proprietari o in alcuni casi non proprietari che non è la resa di un investimento del capitale investito. Capitale strumentale è l'obiettivo un altro. Secondo me se interpretiamo in questo modo il concetto di economia sociale mi pare che sia coerente con le definizioni europee, il quadro che ci ha fatto Calzaroni credo che sia coerente. Ecco la cosa interessante, io qui ho ripreso, quindi posso anche saltarla, ma la cosa interessante è che mentre gli altri dati, abbiamo i dati, l'Istat oggi ci fornisce due tipi di informazione che non avevamo altrimenti, le informazioni relative al non profit, diverso dalle cooperative sociali dove c'erano già delle altre fonti informative e questo discorso delle società con cooperative al vertice. Finora non avevamo un dato complessivo, adesso ce l'abbiamo, è da approfondire, perché comunque queste fanno parte dell'economia sociale, perché anche lì nel dibattito c'è una gran confusione, quando si parla di for profit spesso si intende una forma giuridica di tipo for profit. e non un'impresa che ha obiettivo il profitto, sono delle cose diverse, ormai è normale anche nella giurisprudenza europea che l'impresa, anche l'impresa dei capitali, venga usata per finalità diverse dalla ricerca del profitto. Quando a livello europeo e italiano noi inventiamo la SRL con finalità occupazionali, quella è un uso non tradizionale, non necessariamente sociale ma non tradizionale, di un'impresa dei capitali. Fino a ieri pensavamo che l'impresa dei capitali dovessero massimizzare il profitto, invece sono pensate per massimizzare l'occupazione, che è tutta un'altra faccenda, o per favorire l'innovazione, altro obiettivo che non fa parte delle nazioni. Quindi occorre chiarire, al di là della forma giuridica, quello che conta è l'obiettivo dell'organizzazione e in questo caso allargare l'economia sociale e le imprese che sono strumentali rispetto a cooperative o ad altri tipi di imprese sociali è assolutamente corretto. Il dato che emerge per la prima volta è una dimensione considerevole più che in termini di numero di imprese, soprattutto in termini di fatturato, perché sono tutti grandi gruppi. Abbiamo tentato anche di fare una cosa del genere che poi Carpita riprenderà. abbiamo correlato il valore medio dell'entrata per le varie tipologie organizzative e qui i gruppi a proprietà cooperativa non ci sono perché andavano fuori dal grafico in quanto sono molto grandi e la media dei lavoratori remunerati. È interessante perché vi è una correlazione quasi perfetta fra tutte le forme diverse dalle cooperative sociali di tipo A e di tipo B. Le due realtà che si distinguono per essere ad altissima intensità di lavoro, quindi a fronte di fatturati mediamente non altissimi, elevato a impiego di lavoro, sono le cooperative di tipo A che sono quelle che forniscono servizi sociali e poi un po' meno quelle di tipo B che sono quelle di inserimento lavorativo e che nell'Istat fa rientrare fra le attività legate allo sviluppo economico, perché la definizione è stata usata qui. L'altra cosa interessante è che se mettiamo insieme censimento del non-profit, cooperative sociali, cooperative, società, quando avverti su una cooperativa, abbiamo una presenza delle economie sociali in tutti i settori, sia quelli a carattere tipicamente pubblico, assistenza, sanità, cultura e sport, istituzione e ricerca, sia nei settori privati, con l'esclusione, attenzione, o con l'unica limitata presenza la troviamo nel mannifatturiero non alimentare, i dati ci indicano un'elevata presenza di cooperative e di società con al vertice di una cooperativa nella manifattura, poi andiamo a vedere che in realtà sono cooperative di agricoltori che hanno realizzato delle attività manifatturiere di carattere agricolo, quindi negli altri settori del mannifatturiero la cooperazione e comunque l'economia sociale è molto meno presente, sono realtà che sono presenti, commercio, attività finanziarie assicurative, costruzioni eccetera. Poi ci siamo concentrati però sulla sostenibilità e qui per fare questo abbiamo dovuto, non abbiamo potuto fare un'analisi complessiva di tutto l'universo, perché? Perché i dati di cui disponiamo sono diversi, a volte anche le fonti sono diverse. E quindi abbiamo fatto un'operazione che non è in linea con quella di stamattina, abbiamo definito come market, non quelle che oggi Mancini ha definito come market, che è una definizione molto, dove il market è portato a una soglia molto alta, abbiamo detto che sono market quelle che hanno almeno un euro di ricavi dalla vendita di servizi al privato oppure da contratti con la pubblica amministrazione, cioè abbiamo tagliato fuori un 10% di organizzazioni che non hanno proprio nessuna entrata, hanno solo donazioni o contributi da soci, anche se anche lì è discutibile che queste non possano essere imprese, perché possa avere un'impresa benissimo finanziata esclusivamente con quote associative, perché il problema non è come tu raccogli i soldi, ma che tipo di relazione tu instauri con i tuoi finanziatori. Comunque a parte questo, non possiamo andare troppo nel dettaglio, e abbiamo poi lavorato quindi per quanto riguarda non profit e cooperatività sociali sul 90% delle organizzazioni censite, però abbiamo fatto anche un altro calcolo, ma se noi mettiamo la soglia al 40%, somma delle due entrate, che potrebbe definire in qualche modo le imprese sociali all'interno di questo mondo, perché hanno un'attività economica rilevante, siamo quasi al 20%, 59-60 mila organizzazioni hanno più del 40% di entrate o da enti pubblici, da contratti con enti pubblici oppure da vendita privati. Ci siamo andati a vedere da dove derivano queste risorse, adesso d'ora in poi ragioniamo sul 90% dell'organizzazione, abbiamo escluso il 10% e abbiamo tre grandi fonti di entrate, sono tutte e tre molto presenti, 36% circa da convenzioni con enti pubblici, questo indipendentemente andiamo a trasversare sui settori, il 23% dalla vendita di beni e servizi, quindi abbiamo una presenza di vendita ai privati piuttosto rilevante e il 25% da contributi di aderenti o donazioni, sono le tre grandi voci. La cosa interessante che emerge è le bassissime entrate da patrimonio, qui però non ho chiarito con calzaroni ancora ma lo chiariremo se ci sono anche le fondazioni bancarie oppure no, perché vedo che Barbetta mi guarda male, peraltro che si alza il 12,5% delle fondazioni, vedremo le fondazioni sono quelle presenti nel censimento, sono preventivamente operative e la bassa percentuale ormai dei sussidi pubblici, i sussidi pubblici stanno scomparendo, eppure che erano la fonte principale fino a vent'anni fa di finanziamento. Siamo al 12% dei comitati, che come sapete sono organizzazioni a breve durata finalizzate al finanziamento di un evento. La rilevanza rispetto alle tipologie è evidente, la media è il 36% della rilevanza delle entrate da enti pubblici, dove spiccano le quattro tipologie di cooperative sociali, che abbiamo visto operano largamente nell'ambito dei servizi di interesse pubblico, però seguono le fondazioni, e questo mi dice che sono largamente operating, gli enti ecclesiastici, che poi vedremo anche un'altra particolarità, anche qui gli enti ecclesiastici sono prevalentemente a carattere produttivo di servizi, sanità soprattutto, le altre forme giuridiche che sono un mix di varie attività, in particolare fondi pensioni, e poi invece le associazioni non riconosciute e riconosciute stanno sotto la media. Se guardiamo lo stesso dato, cioè la percentuale di entrate da lente pubblico per settori, anche qui emerge una conferma, la sanità viene prima, segue l'assistenza sociale, lo sviluppo economico che poi significa inserimento lavorativo, sostanzialmente mi ha stupito, se volete, da una parte la bassa presenza di contributi pubblici, di contratti con la pubblica amministrazione, poi con i contributi la cifra aumenta nell'istruzione e ricerca, e l'elevato ancora, l'elevato peso dei contratti con la pubblica amministrazione, nell'attività di tutela dei diritti, nelle attività politiche, che invece dovrebbero essere un pochino, non si capisce qua cosa ci sia, e forse questa potrebbe essere anche una particolarità italiana. Altro dato interessante è la bassa percentuale di contratti con la pubblica amministrazione da parte delle organizzazioni di cooperazione internazionale, 29,9, vuol dire che il 70% è finanziato diversamente. E questo posso saltarla, perché comunque è maggiore l'entrata, la dipendenza da enti pubblici, stiamo guardando la sostenibilità, è maggiore nel sud e nelle isole, e cresce la crescita delle dimensioni, anche qui ovviamente, arrivando al 41% nelle organizzazioni che hanno più di 500 mila euro di fatturato. Come vengono impiegate queste risorse? Abbiamo guardato solo, probabilmente, da quelle di origine pubblica, perché volevamo capire quanto dipendeva dal pubblico. Beh, c'è un'elevata, mediamente, spesa per il personale dipendente, che in media 35%, sale al 62% nelle cooperative usali tipo A, che sono quelle a più alto contenuto di lavoro. Ecco, per dirla ai precari di oggi, che hanno fatto una manifestazione qui, quando si parlava di non profit, lamentando che l'Ista, che non è un ente non profit, ma è un ente pubblico, non li dava, c'è un dato interessante, è in risoria la spesa per collaboratori, 3,6%, il che vuol dire che chi lavora in questo settore, normalmente, è il lavoratore dipendente. Io mi aspettavo molto più alto nelle associazioni, che spesso vivono dei progetti, e invece il 5%. Elevato, ovviamente, per spese di beni e servizi, è maggiore nei comitati, associazioni e consorsi, che spesso fanno da tramite, fra ente pubblico e cooperative e sociali, anche qui le spese per il personale sono più elevate nei settori ad elevato intervento operativo, quindi assistenza sociale, sanità, istruzione e ricerca, e le spese per il personale crescere e crescere delle dimensioni. La sostenibilità. Abbiamo buoni margini, cioè in generale i dati mostrano un buon livello di sostenibilità, tutte le tipologie presentano margini positivi nell'aggregato, con una sola eccezione, gli enti ecclesiastici, che invece presentano margini largamente negativi, e le organizzazioni meridionali, dove perdono complessivamente 23,7 milioni. La cosa interessante è che anche le fondazioni nel sud dichiarano più uscite che entrate. E quindi qui, insomma, abbiamo un po' di esempio. Il dato ce lo aspettavamo, il censimento lo conferma. I margini sono particolarmente elevati nelle associazioni riconosciute, nei comitati e nelle fondazioni, e ovviamente molto contenuti nell'organizzazione di erogazione di servizi. Margini negativi maggiori nella sanità e nella ricerca. E anche qui i margini sono normalmente negativi nelle piccolissime organizzazioni, si diventano positivi col crescere, sopra i 500 mila euro sono tutti positivi per tutte le tipologie organizzative. Abbiamo fatto poi due approfondimenti, poi ho finito e lascio la parola a Maurizio, sulle cooperative sociali e sulle cooperative in generale, dove disponendo dei dati AIDA, oltre che di quelli oggi a disposizione dell'Istat, abbiamo potuto fare due approfondimenti. In sostanza, siccome sulle cooperative spesso si dice che non sono sostenibili, ma sono tutto sommato dipendenti dalla pubblica amministrazione, questi dati smentiscono questo. Abbiamo margini complessivamente positivi, tutti positivi, sopra i 250 mila euro di fatturato e sopra i 250 mila euro di fatturato le cooperative sociali tendono già ad avere una struttura patrimoniale piuttosto solida. Sul valore della produzione pari a 10 miliardi c'è un capitale investito pari a 8,3 miliardi, questo dagli stati patrimoniali, e un patrimonio netto di 2 miliardi di euro, di cui 1,6 miliardi di riserve indivisibili. Anche qui ci serve da fare una lunga dissertazione su questo, pochi sanno che l'Italia da questo punto di vista è un paese anomalo rispetto al resto del mondo, perché è il paese in cui le cooperative cosiddette mutualità prevalente in realtà sono vincolate alla distribuzione di utili in misura consistente. Le banche di credito cooperativo devono portare a riserva il 70% degli utili, le altre devono portare il 30%, poi possono distribuire una piccola parte e devono comunque riportare il resto a riserva. Questa legge esiste solo in Italia e in Finlandia a livello europeo, e c'è una cosa interessante, la Francia sta per approvare una legge sull'economia sociale solidaria e per farla diventare solidaria stanno applicando la legge basevi esattamente come ce l'abbiamo noi in Italia, niente di più, niente di meno. Quindi anche in questa analisi del non profit italiano le cooperative dovrebbero entrare, sono un non profit mutualistico come sono molte associazioni a carattere mutualistico. Questo è significato che questo patrimonio di 2 miliardi e 6 è lì e non può andare da nessuna parte tranne che stare lì. Tra l'altro nel 29% dei casi queste cooperative sono in grado di finanziare il capitale investito per più del 35% dei mezzi e nel 22% dei casi per valori compresi fare 15 e 35. Questo manda un segnale anche a chi pensa che serva molta finanza per garantire lo sviluppo di queste imprese, la finanza se la sono creata da sole. Questo varia anche in generale per le cooperative to cure, senza le cooperative sociali, anche qui struttura patrimoniale solida, qui i dati sono un po' più bassi sul fatturato che non abbiamo dentro l'IPAP e comunque mancano dei bilanci in Aida, comunque su un campione omogeneo che presenta 84,3 miliardi di fatturato e un capitale investito di 105 miliardi, il patrimonio netto è di 25,5 miliardi di euro. Questo patrimonio netto del sistema cooperativo italiano nelle dimensioni viste qui esclude i gruppi, escludi i consorzi, solo le cooperative e anche qui abbiamo il 25% che è il grado di finanziare il capitale investito per più del 35% con mezzi propri e 17, 15 e 35, che sono buoni livelli di capacità di finanziare gli investimenti con i mezzi propri. Questo per quanto riguarda alcuni spunti di riflessione sulla sostenibilità. Cedo la parola a Maurizio Sì buongiorno, io sono già frastornato da tutti questi numeri facendo lo statistico ed essendo abituato a leggerne un po', allora metto subito le mani avanti perché vi presento due piccoli modellini, però siccome gli statistici sanno da tempo che questo signore da diversi anni aveva sottolineato questa cosa, i modelli sostanzialmente sono tutti sbagliati, allora metto le mani avanti e dico che qualche errore ci sarà sicuramente, però da quello che vi presenterò credo si possano trarre delle considerazioni interessanti, almeno per il lavoro futuro, per gli approfondimenti futuri. L'idea che stiamo cercando di seguire grazie all'invito dell'Istat di utilizzare i dati del censimento del non profit e quindi io mi occuperò solo dei dati del censimento non profit, non del mondo della cooperazione, è quella di vedere se è possibile descrivere alcune caratteristiche del cosiddetto non profit economico, fra virgolette, cioè di quelle istituzioni del non profit che fanno attività economica, dove per attività economica abbiamo scelto una definizione light, come sottolineava il dottor Calzaroni nell'introduzione, cioè ci siamo detti sono non profit economico quelle istituzioni del non profit che comunque fanno un po' di fatturato, almeno un euro entra in cassa, non abbiamo utilizzato confronti con del tipo costi ricavi e cose di questo genere. Quindi vi parlerò di questo 90% del mondo del non profit che ha nelle sue entrate, nei suoi proventi, dei proventi che provengono da contratti o da vendite pubbliche e privati, però con un allontanamento da statistico rispetto alle relazioni che mi hanno preceduto e anche quella di stamattina, nel senso che abbiamo cercato di misurare gli effetti netti dei vari fattori che incidono su alcune caratteristiche di queste istituzioni. Vi spiego meglio, abbiamo visto molte slide dove di fatto si fa vedere per esempio come si comportano queste istituzioni nei confronti della forma giuridica, piuttosto che della dimensione in termini di addetti, piuttosto che del settore di attività economica in cui operano. La nostra idea invece è quella di considerare congiuntamente queste caratteristiche, quindi fare quella che gli statistici chiamano un'analisi multivariata e vedere quali sono gli effetti di ognuno di questi fattori determinanti, ma effetti netti, cioè misurati al netto di tutti gli altri considerati. Abbiamo preso quindi queste organizzazioni, abbiamo costruito un indice che potremmo chiamare di propensione all'orientamento al mercato, un indice molto semplice, abbiamo sostanzialmente fatto il rapporto fra l'attività, questa è una slide del questionario, un'attività che proviene da contratti pubblici piuttosto che da proventi privati, l'abbiamo considerata in percentuale o in termini relativi e abbiamo utilizzato questo come indicatori di orientamento, di tendenza all'orientamento al mercato. In sostanza significa che se questo rapporto è vicino a zero la quota di entrate da attività economica è bassa, se è vicino a uno la quota di entrata è molto elevata. La nostra idea è quella di capire se questo indice di propensione all'attività economica dipende da questi quattro fattori, però considerati congiuntamente, forma giuridica, settore di attività economica, area geografica e dimensione in termini di fatturato, che sono un po' le variabili che abbiamo visto passare in diverse slide oggi. Allora questo universo del non profit con questi pianeti ci fanno capire che cercare di mettere un modello, cioè qualcosa che in qualche modo descrive in modo uniforme, questo universo è un'impresa ardua, anche per lo statistico più bravo e quindi non sto parlando del sottoscritto ovviamente, perché in termini di dimensione economica, entrate, lavoratori, dimensione anche numero, le dimensioni di questi pianeti indicano quante sono numericamente queste istituzioni, vedete che siamo in una situazione molto variegata. Rispetto all'immagine proiettata da Borzaga poco fa, qui ho inserito anche questo indice di propensione al mercato. Noi abbiamo una media complessiva di queste istituzioni del non profit economico che si aggira intorno al 30%, quindi vuol dire che mediamente il 30% proviene dall'attività economica, però se voi leggete i numerini piccoli vi rendete conto che mentre per le associazioni questa percentuale è tendenzialmente più bassa, quando si va a toccare per esempio le cooperative sociali di tipo A, lì le entrate sfiorano il 90%, stiamo parlando di valori medi, quindi non considerando i fattori che possono determinare questa situazione. Quindi quello che si vede è che questo indice varia a seconda del pianeta che andiamo a considerare. Non entro chiaramente nei dettagli del modello, mi tengo in superficie, ma l'idea è un po' questa, misurare l'effetto dei quattro fattori, forma giuridica, area geografica, fatturato e settore di attività, su questo indice di quota di mercato, di propensione al mercato, tenendo conto però vedete che quegli archi stanno a indicare che ci sono delle correlazioni, delle relazioni fra i diversi fattori. Abbiamo considerato un profilo base, una tipologia di riferimento, qui si potrebbe anche cambiarla, non è un problema, è una questione di gusti, abbiamo scelto un profilo di riferimento, un'istituzione che è un'associazione non riconosciuta, che opera nel nord-est, che ha un fatturato molto basso, non superiore ai 10.000 euro e che opera nell'attività spettacolo sport. Non sono poche queste istituzioni del non profit economico, sono circa 18.000, questo è il profilo base e adesso con il modello abbiamo cercato in qualche modo di valutare se passando da una forma giuridica diversa, ha un'area geografica diversa, ha un fatturato, una classe di fatturato diversa, un'area di attività diversa, ci sono delle differenze. Allora le differenze nette, ecco mi preme evidenziare questo fatto, che qui stiamo ragionando su effetti netti su questo indice di quota di mercato, quindi al netto di tutti gli altri fattori considerati, sono piuttosto evidenti. Per quanto riguarda la forma giuridica, sostanzialmente si creano tre gruppi, il profilo base ha una quota di mercato che è intorno al 20% in media, quindi vuol dire che il 20% è da attività economica, così come l'abbiamo definita, ed è un profilo che riguarda non solo le associazioni non riconosciute, ma anche le associazioni riconosciute, che è la seconda barretta che vedete in basso. Poi c'è un gruppo piuttosto nutrito, di cui fanno parte i comitati, gli enti ecclesiastici, le fondazioni, le società di mutuo soccorso e le altre forme, dove la quota media cresce, si avvicina ma rimane sotto il 40% e poi c'è il grande gruppo delle cooperative dove questo effetto netto della forma giuridica è piuttosto evidente perché vedete che supera la quota media il 60%. Non si notano invece grandi differenze fra le varie aree geografiche, forse un po' su dei isole, leggermente più basso, però rispetto al profilo base vedete che non ci sono grandi differenze. Come era nelle attese? La dimensione fa la differenza, perché chiaramente aumentando la classe di fatturato, vi ricordo che il profilo base è meno di 10.000 euro, all'aumentare della dimensione economica anche la quota di attività che entra per attività economica aumenta, quindi si passa da un 20% e si arriva al 60% e la grande varietà dei vari settori di attività economica, vedete anche qui ci sono delle differenze sostanziali, c'è il settore, purtroppo ci vedo poco, relazioni sindacali per esempio che non ha di fatto una quota di mercato che è mediamente molto bassa, sicurezza ambiente, sanità, vedete insomma le varie differenze. Ecco mi preme sottolineare ancora una volta che questi sono effetti netti di quel fattore rispetto a tutti gli altri considerati, quindi a parità delle altre caratteristiche. Secondo e ultimo modello, siamo andati a vedere sempre per le stesse istituzioni del non profit economico qual è la quota di entrate da economia diciamo provenienti dal pubblico, quindi anche questo è un indicatore diciamo che sta fra 0 e 1, più si avvicina a 0 più la quota di entrate proventi pubblici è bassa, la dipendenza dal pubblico è bassa, più si avvicina a 1 più la dipendenza è alta. Anche qui se andiamo a vedere l'universo del non profit troviamo delle percentuali molto variabili anche se si tratta di dati medi, anche qui si va da una media del 25% a un minimo che è intorno al 17-12 fino a un 60-67% dei consorsi, quindi quando vediamo questa variabilità chiaramente ci viene da pensare che ci siano delle differenze anche dal punto di vista strutturale di queste organizzazioni, il modello è analogo, quindi sempre l'idea di misurare questi fattori sulla quota di fonte pubblica e anche qui gli effetti netti sono evidenti, forma giuridica con differenze sostanziali fra le varie tipologie, area geografica questa volta un po' più variegata la situazione pubblico privato rispetto a quella che avevamo riscontrato rispetto all'orientamento al mercato. Sul fatturato l'effetto c'è ma si vede solo quando queste istituzioni sono di medio-grande dimensioni, quindi nell'ambito del non profit già una istituzione con almeno 100.000 euro di fatturato la possiamo considerare un'istituzione di dimensioni rilevante e la grande eterogeneità che si riscontra a livello settoriale. Il mio intervento è finito ma lo vorrei chiudere Maglio, intanto ringraziando te e il tuo gruppo per il lavoro che avete fatto nel passarci i dati, nel darci una mano e poi riprendendo anche il discorso che ha fatto Gian Paolo Barbetta stamattina. Cioè la grande rilevanza che hanno questi dati e la grande fatica però che ha chi fa ricerca nel riuscire a sfruttarli. È molto complicato riuscire a entrare nei meccanismi, a raccogliere, a elaborare i dati, dati utili perché sono patrimonio di tutti, dovrebbero esserlo, però vorrei sottolineare una cosa senza dare la colpa all'Istat. Borzaga quando ha parlato di cooperative ha citato più volte non Asia ma Aida. Non so se molti di voi sanno cos'è Aida. Si sa cos'è Aida ma non Aida. Aida è una banca dati internazionale gestita da una società internazionale che vende i bilanci delle società non solo italiane ma europee. Ebbene noi a livello di ricerca per avere dei dati che riguardano i bilanci delle cooperative italiane ma delle imprese italiane dobbiamo andare a comprare da Aida, da Buro Van Dijk e non averli in Olanda. Quindi questo qui dà anche un'idea di quanto sia la difficoltà per chi lavora su queste tematiche ad avere dei dati adeguati e a dei costi accessibili per chi fa ricerca. Grazie. Grazie. Non rispondo all'ultima cosa perché non dipende dall'Istat. Fate le vostre emozioni al garante della riservatezza. Noi non saremo contrarie, le appoggeremo. Non entro nel merito, sarebbe discluso di questo. Non voglio sottrarre tempo alla prossima relazione che vede il lato dell'occupazione. Ecco il segno del potere. Giovannetti Moretti Giovanneschi e ho andato in ordine alfabeto, i soldi di 20-25 minuti. Buonasera. Allora, se non si fosse ancora capito manca una definizione del termine economia sociale. L'abbiamo detto e ridetto. la cosa importante qui è che in molti atti ufficiali del Parlamento europeo, della Commissione e così si dà un ruolo importante all'economia sociale soprattutto rispetto all'occupazione. In questo caso gli squilibri del mercato del lavoro che l'economia sociale sarebbe chiamata a risolvere sono squilibri importanti perché si parla di disoccupazione precarietà e inoccupabilità delle persone esposte al rischio di esclusione sociale. I dati dei censimenti dell'Istat ci hanno offerto questa occasione per sperimentare e vedere se per quanto riguarda l'economia italiana si potesse dare una risposta a queste domande. Infatti ci siamo posti delle domande che possono sembrare molto banali ma che costituiscono il punto di partenza di ogni analisi sull'occupazione. Quindi qual è il peso occupazionale dell'economia sociale? Se l'economia sociale crea occupazione e se si tratta appunto di un'occupazione buona. ossia se è un'occupazione stabile e inclusiva. Prima però di parlarvi dei dati volevo sottolineare alcune cose che sono emerse nella sperimentazione. Alcune sono state richiamate e altre le richiamo in questa sede anche se poi il professor Giovannetti ci tornerà perché sono importanti ai fini dell'universo e anche ai fini del commento dei dati che vedrete. Innanzitutto il discorso che in mancanza di una definizione abbiamo dovuto far riferimento al criterio della forma giuridica e far riferimento a diverse fonti quindi per quanto riguarda i censimenti. E questo ovviamente ha creato delle difficoltà di aggregazione, comparabilità dei dati, somme o anche variabili che nel corso del tempo sono state introdotte nell'analisi dell'Istat e che quindi non abbiamo potuto valutare in serie storica. Inoltre in questo universo vi sono alcune cose importanti. Innanzitutto vi sono dei casi di confine come è stato già detto sulle imprese a controllo cooperativo. Vi sono organizzazioni con una natura giuridica spuria. Le ex IPAB a volte sono nel privato, a volte sono nel pubblico. Il trattamento viene fatto comunque come impresa e quindi creano numerosi problemi riguardo alla trattazione del date. Poi vi sono unità non identificabili direttamente oppure con natura ancora incerta. Quindi tutto il discorso dell'organizzazione del commercio equo e solidale dove sono? Non si sa. Nel senso ovviamente basandosi sulla forma giuridica non sappiamo dove siano collocate precisamente. Oppure quelle che si occupano di ogni microcredito e potrei continuare. Mi fermo. Poi vi sono delle caratteristiche e quindi delle variabili da rilevare che aiuterebbero a qualificare meglio la nozione di economia sociale. Si è parlato del criterio di democrazia e di partecipazione. Aggiungerei anche la funzione sociale svolta perché altrimenti non si capisce di che cosa stiamo parlando. e poi le ricadute sulla comunità sia a livello locale che globale. In questo discorso è chiaro che quando io parlo a livello locale sto parlando dell'impatto proprio dell'azione di una determinata organizzazione su una comunità ma quando parlo a livello globale sto parlando anche dell'impatto complessivo che per esempio potrebbe esserci sull'ambiente. Quindi sono temi molto ampi e che comunque hanno bisogno di trovare delle variabili per discriminare i diversi campi di applicazione. L'ultimo problema e di cui penso che parlerà poi Stefania Cuicchi è proprio quello del problema della collocazione all'interno dei settori istituzionali della contabilità nazionale e quindi la distinzione tra le organizzazioni che svolgono attività di impresa e invece altre che basandosi esclusivamente su personale gratuito sono assimilabili alle famiglie. Chiudo qui e vi faccio vedere alcuni dati. Qui noi abbiamo preso l'universo più ampio possibile confrontato con quello che derivava dai censimenti delle istituzioni pubbliche delle imprese e del non profit. Abbiamo definito quindi un nuovo universo che è quello dell'economia sociale. Quindi nel sistema produttivo italiano risulta che l'occupazione i lavoratori quindi intendendo per lavoratori sia gli addetti che i lavoratori esterni e i lavoratori temporanei quindi sommando tutto costituiscono il 10,6% degli occupati del sistema produttivo e sono 2 milioni e 200 mila unità. Cosa è successo? Quindi la prima domanda è qual è il peso? La seconda è qual è stata l'evoluzione nei 10 anni? Qui abbiamo messo a confronto i dati dei due censimenti 2001 e 2011 e come potete vedere l'unico ambito in cui c'è stata una crescita consistente di occupazione è stato proprio quello dell'economia sociale la crescita dell'occupazione è stata del 27% e abbiamo una variazione del 3,3% nel mondo delle imprese e il meno 10,6% nelle istituzioni pubbliche quindi vi è stata effettivamente l'economia sociale contribuisce alla crescita dell'occupazione quali sono le organizzazioni più dinamiche? All'interno di questo mondo vediamo che le organizzazioni che hanno contribuito di più alla crescita dell'occupazione quindi all'aumento del numero dei lavoratori sono state le cooperative sociali e le fondazioni non vi sto a dire i numeri comunque sono percentuali superiore al 100% quindi il doppio variazione percentuale le aree geografiche più dinamiche qui si conferma la moderata performance delle organizzazioni del mezzogiorno e infatti la crescita più elevata si è avuta nel nord ovest e nord est e soprattutto al centro per quanto riguarda i settori di attività quelli più dinamici sono stati appunto la sanità e l'assistenza sociale con un aumento degli occupati del 125,9% le attività artistiche sportive di intrattenimento la fornitura di energia elettrica e gas l'istruzione al di sotto vedete quelli che sono molto al di sotto di quella che è stata la media nazionale qui abbiamo tentato di fare un altro discorso quindi siamo arrivati al punto di dire quali sono se l'occupazione iniziare a parlare del discorso se l'occupazione creata effettivamente è una buona occupazione in questo caso devo dire che sui dati non abbiamo potuto lavorare tantissimo in quanto le forme i diversi contratti di lavoro non sono in tutti i censimenti rilevati allo stesso modo quindi abbiamo preso ovviamente quello che era confrontabile e in particolare quindi abbiamo messo in relazione gli addetti quindi i dipendenti sul totale dei lavoratori in questo caso le organizzazioni che risulterebbero privilegiare di più la stabilità dell'impiego quindi con una percentuale di addetti più alti rispetto al totale dei lavoratori sono le cooperative non sociali e le cooperative non sociali quindi tutto il mondo della cooperazione per quanto riguarda un secondo aspetto anche qui molto ma molto a volo d'angelo per l'inclusività abbiamo voluto vedere quanto poteva essere l'influenza appunto delle donne all'interno di questo mondo ovviamente come per il non profit e ancor più per l'economia sociale si dimostra che il settore è un settore ad alta prevalenza femminile in questo caso più del 55% dei lavoratori sono donne e nella tabellina di lato vedete che in questo caso le donne hanno generalmente contratti di lavoro più stabili rispetto ai colleghi uomini lascio la parola al professore bene buonasera a tutti permettetemi prima di continuare il discorso di Barbara di raccogliere qualche suggestione che è stata evocata dal dibattito è vero non abbiamo una definizione di un'economia sociale il dibattito è antico risale all'ottocento è tutto aperto io credo però che dobbiamo immaginare un problema principale si classifica perché si risponda a delle domande e noi dobbiamo domandarci che cosa vogliamo cercare per classificare l'economia standard lo sa che cosa significa una classificazione nel senso che la classificazione a teco è di fatto figlia culturale di una impostazione per settori dell'economia in cui viene dato per scontato che ci siano delle tecniche date quindi merceologicamente definibili dei bisogni in qualche modo individuabili che determinano la domanda e che quindi l'attenzione debba essere rivolta come la concorrenza fa il suo mestiere nel raggiungere un risultato di piena utilizzo delle risorse e un equilibrio parziale compatibile con un sistema generale questa classificazione che ha come punto di riferimento all'efficienza e come punto di riferimento di valutazione appunto l'aspetto di pieno utilizzo delle risorse e massimizzazione del profitto quindi di razionalità economica sta strettissima naturalmente al sistema dell'economia sociale comunque lo definiamo e se voi pensate al grande lavoro di ricerca che è stato fatto in questi vent'anni venticinque anni moltissimi dei punti analitici nascono si sviluppano per aggirare questo tipo di gabbia teorica il stesso concetto di terzo settore che ha ci accompagnato per molto tempo è un concetto che vede terzo rispetto alla non capacità di classificare l'economia sociale proviamo a fare un gioco appunto colgo la suggestione di Zamaro proviamo a fare un gioco proviamo a cambiare i nostri parametri in termini di non efficienza ma di sostenibilità se ragioniamo sulla sostenibilità dando una definizione precisa non quella di lavorare per il futuro perché sennò cadiamo nei paradossi alla udiale perché io devo lavorare per generazioni future quando loro non hanno fatto niente per me quindi non è quella la definizione che vogliamo ma una molto più semplice molto più banale molto più ovvia la capacità di riprodurre le risorse che si usano naturalmente questa è ovvia dal punto di vista macroeconomico ma deve essere declinata dal punto di vista operativo a livello delle unità che devono essere a loro volta definite la riproducibilità delle risorse se voi a volo d'aquila pensate a che cosa fa il terzo settore cosa fa l'economia sociale l'economia sociale riproduce risorse lavora alla riproduzione delle risorse attraverso il lavoro di cura quindi risorse che lavorano per la riproduzione delle risorse la cosa più ovvia sarebbe che questo dovremmo considerare un settore primario non un terzo settore rispetto a qualche altra cosa anche se non c'è Stefano Zamagni perché se no mi volerebbe contro rispetto a questo tipo di classificazione ma noi siamo abituati ecco quindi è importante perché se l'idea e lo scopo è quello di andare a vedere il livello di sostenibilità il terzo settore la sostenibilità del terzo settore diventa la sostenibilità dell'intero sistema e lo spazio economico che l'intero sistema dà la sostenibilità diventa la domanda aggregata del terzo settore chiamo il terzo settore per capirsi che non è più il terzo settore diciamo che questo settore è il primario dell'economia sociale quindi questo è davvero molto importante questo tipo di impostazione perché come prima conseguenza è che noi dobbiamo inserire organicamente questo pezzo di economia senza troppe distinzioni dal punto di vista terzo secondo economia sociale e sottoporla sistematicamente un'analisi di economia industriale utilizzando incrociando i due paradigmi storici della struttura condotta performance esattamente come il neostituzionalismo del neostituzionalismo dove si osservano la distribuzione dei diritti di proprietà le istituzioni qual è il ruolo economico delle istituzioni e così via le cose che sono state dette in questo tavolo intersecano questi aspetti continuamente il fatto della scelta della definizione dell'impresa sociale sulle forme giuridiche che devono essere valutate per le loro performance è la strada giusta che credo che dobbiamo proseguire e nel momento che organicamente inseriamo questo pezzo dell'economia all'interno dentro a questo meccanismo di produzione e riproduzione dove il 10% degli occupati lavorano per la riproduzione del sistema e non credo che sia una cosa piccola né trascurabile diventa anche molto importante come vengono utilizzate le risorse l'economia sociale o un no profit deve dimostrare e non può non dimostrarlo di non essere low wage perché se la sopravvivenza la sostenibilità di un settore si basa sull'utilizzo sistematicamente non sostenibile delle risorse di lavoro c'è un problema che non è solo del terzo settore non è solo dell'economia sociale c'è un problema generale proprio per le relazioni funzionali che ci sono fra l'economia sociale e la sostenibilità generale quindi questo diciamo questa premessa giustifica prelude a questo tipo di questo grafico e a quello che segue allora qui le istituzioni sono state osservate per la struttura occupazionale rispetto all'anno di nascita quello che sembra che le anziane sono migliori dal punto di vista occupazionale i contratti sono stabili molto più stabili l'occupazione è caratterizzata da lavoratori a tempo indeterminato cosa invece che dall'altro punto di vista vedete che la struttura è radicalmente diversa naturalmente uno potrebbe leggere questo grafico in due direzioni la storia delle prime nate in qualche modo segna il percorso che seguiranno quelle che sono appena entrate questa è una possibilità ovviamente l'altra parte l'altro problema è che le nuove entrate stanno entrando con delle regole che sistematicamente sottutilizzano il lavoro lo utilizzano in maniera non particolarmente come dire favorevole l'altra diapositiva è quella che analizza le dimensioni dell'impresa e le forme contrattuali e ancora una volta vediamo che cosa succede nelle piccole imprese di nuovo la lettura potrebbe essere quella di dire le piccole imprese nascono piccole cioè l'impresa nasce piccola e poi evolve sta all'interno della cooperazione l'idea di lavorare nel lungo periodo fa parte dei principi costitutivi della cooperazione quello di immaginare un profilo in cui si può rinunciare al salario adesso per averlo in termini di beneficio generale più avanti ma questi dati proprio perché è necessario inserirli all'interno del meccanismo generale del funzionamento della macchina economica si sviluppano sotto la cupa di come è andato il mercato del lavoro in tutto il nostro paese in tutti i settori industriali allora i carotaggi possibili che non sono molti mostrano ad esempio quello che sono riuscito a fare a Modena sulla provincia di Modena perché ho rubato i dati a Lina e non mi vergogno a dire ho rubato diciamo ho utilizzato dei dati passati in un certo modo va bene ecco allora la non ho detto siamo in streaming scasso cosa mi succede che cosa mi succede non è vero nel senso che sono stato autorizzato ma ma ho avuto una relazione particolare con lo statistico che mi ha un continuo basta basta scusate fatto si è che l'analisi sistematica per non ho detto nulla rovinato per sempre no no perché poi faccio una bella orazione la lista allora la i carotaggi che sono possibili sia settorialmente sia anche la ricercazione che abbiamo fatto con la Toscana e così via mostrano un dato preoccupante in particolare in serie storica se noi incrociamo i dati per dimensione delle imprese e utilizzo delle forme diciamo atipiche di lavoro o precarie di lavoro ci siamo capiti vediamo che la presenza del lavoro atipico precario o a peggiori condizioni occupazionali si concentra non necessariamente nelle piccole imprese ma nelle più piccole imprese dei vari cluster produttivi che si vengono a determinare questa condizione nel corso del tempo ha prodotto uno spappolamento del settore produttivo nel senso che progressivamente le dimensioni sono sistematicamente scese con effetti interrelati fra le condizioni di lavoro sulle politiche d'impresa quindi sugli investimenti che a loro volta sono diventate domanda di lavoro di un certo tipo nel settore dei settizi di cura a Modena nel corso dei dieci anni la struttura industriale stabile dell'economia che dentro naturalmente c'è un bel pezzo dell'economia sociale è di fatto polverizzata non è più possibile vedere una struttura industriale come era presente all'inizio degli anni se noi andiamo a vedere che cosa succede all'occupazione all'interno questa occupazione all'interno di nuovo mostra alcune cose che nei vari documenti che io ho letto sono presenti i giovani diminuiscono l'abbraccio operaio invecchia le competenze non vengono trasmesse e così via allora questi aspetti questi aspetti che segnano l'andamento dell'economia italiana che dovrebbero essere studiati appunto senza rubare i dati io imploro l'istat di fornirci a noi ricercatori una relazione fra dati dell'impresa e i lavoratori perché se non si fa così non si studia il mercato del lavoro e non studiando il mercato del lavoro noi non saremo mai in grado di fare una valutazione delle politiche del lavoro se vogliamo accontentarci dei talk show possiamo andare avanti ma per studiare il mercato del lavoro bisogna studiare la mobilità e il cambiamento strutturale allora i dati che noi abbiamo a questo punto sono per esempio questi che inquietano se questa prospettiva che abbiamo discusso un attimo fa è vera perché è chiaro che se stiamo parlando dello sport delle associazioni sportive la presenza dei volontari ci sta ma quando il segretario del volontariato di Modena mi dice io posso lavorare gratis posso far lavorare gratis posso fare tutto quello che volete gratis ma ho 32 mezzi ai quali devo spiegare che non posso spiegare che devo mandare gratis e non posso spiegare che la logistica è una cosa che ha bisogno di strutture stabili perché portare i vecchietti in giro per Modena è fondamentale allora l'idea che noi dobbiamo abituare l'asido a non mangiare va bene può andare bene nel brevissimo periodo ma ha conseguenze sulla produttività nefaste e a questo punto ripeto la posso mandarle in in sequenza ma direi che ho finito ho finito grazie do la parola a Stefania Cuicchio che parlerà di un aspetto particolare qual è il conto satellite pregherei Stefania di stare in un quarto d'ora visto che siamo poteri di casa dobbiamo essere più rigidi con noi stessi rispetto agli ospiti buonasera a tutti ritorniamo nell'ambito della statistica ufficiale e quindi nella rappresentazione diciamo del settore non profit nei conti nazionali allora i conti nazionali vengono compilati seguendo le definizioni e i criteri stabiliti dal regolamento SEC del sistema dei conti economici dell'Eurostat e siamo in corso ed è in corso una revisione dei conti nazionali proprio per l'adozione del nuovo regolamento le nuove stime saranno rilasciate a settembre del 2014 quali sono gli operatori che vengono identificati nel sistema dei conti abbiamo le famiglie abbiamo le imprese abbiamo le istituzioni senza scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche questi operatori sono classificati in settori istituzionali in modo da poter rappresentare in maniera analitica il loro comportamento economico il loro contributo alla formazione del prodotto interno e del reddito nazionale e attraverso quindi processi di produzione flussi distributivi redistributivi e di accumulazione i criteri utilizzati per la classificazione degli operatori sono molteplici però in primo luogo si va a verificare la loro natura si tratta di un operatore pubblico di un operatore privato sulla base di chi controlla l'unità istituzionale e la loro capacità di svolgere per un'attività produttiva per il mercato a prezzi economicamente significativi è il famoso criterio del 50% per il quale appunto vengono definiti come operatore market tutte le unità istituzionali che riescono a coprire con i ricavi delle vendite almeno il 50% dei loro costi di produzione definiti quindi dalla somma dei costi intermedi del costo del lavoro delle imposte indirette sulla produzione degli interessi passivi e degli ammortamenti nel sistema dei conti nazionali la definizione quindi di istituzione non profit adottata è la seguente non è cambiata rispetto a quella attualmente in vigore e quindi vengono identificate come istituzione non profit tutte le entità giuridiche o sociali che sono finalizzate alla produzione di beni e servizi il cui status non consente di costituire quindi una fonte di reddito di utile o di altro provente finanziario per le unità che le hanno fondate o che le controllano queste istituzioni quindi possono avere un margine operativo questo margine operativo però non può essere distribuito le unità che le hanno costituite deve rimanere nell'unità e essere finalizzato quindi ad altre destinazioni pertanto quindi le nostre istituzioni non profit che rispondono appunto alla definizione fornita dal regolamento le troveremo classificate in tre settori istituzionali il settore delle società finanziarie e non finanziarie nel momento in cui sono dei produttori market nel settore dell'istituzione uno specifico settore quello delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie nel momento in cui sono operatori private la cui produzione i cui costi di produzione sono sostanzialmente coperti attraverso trasferimenti ricevuti da terzi operatori nel settore dell'amministrazione pubblica quando siamo in presenza quindi di istituzioni controllati da amministrazioni pubbliche che produttori non market che cosa distingue questi operatori rispetto agli altri presenti sugli altri operatori economici del sistema allora nel settore delle società finanziarie non finanziarie quindi abbiamo le istituzioni market la loro produzione è valutata ai prezzi di mercato la loro produzione è destinata quindi a consumi intermedi di altri operatori o a consumi finali del settore delle famiglie rispetto agli altri operatori queste unità possono avere stabilmente un margine operativo anche negativo in quanto una parte dei loro costi possono essere coperti attraverso trasferimenti che ricevono da altri soggetti la loro impiegano input di lavoro volontario che nel core del sistema dei conti nazionali non è valutabile cioè la produzione se non nel caso in cui si concretizza è utilizzato per la realizzazione di un bene di investimento il settore delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie quindi rappresenta l'attività degli operatori non profit privati non market in questo caso la produzione è valutata ai costi e quindi questi costi sono prevalentemente coperti attraverso trasferimenti che ricevono da altri operatori quindi c'è una valutazione e un input ai costi e la registrazione di consumi finali imputati alle famiglie in corrispondenza quindi di questa valorizzazione dei servizi offerti anche in questo caso la valutazione appunto dei servizi offerti non include alcuna valutazione dell'input di lavoro volontario perché appunto il sistema dei conti nazionali è diretto a misurare soltanto le operazioni economiche che danno luogo a trasferimenti a una misurazione monetaria delle operazioni economiche che intervengono tra gli operatori presenti approfondimenti quindi specifici sulla effettiva sui prodotti sulla produzione effettivamente offerta da questi operatori possono essere condotti in un conto satellite che nel caso appunto del settore non profit è definito il cui frame è stato definito dalle Nazioni Unite nel 2003 con la pubblicazione appunto del manuale sulle istituzioni non profit allora come avevo anticipato è in corso un'attività di revisione del sistema dei conti nazionali proprio per l'adozione del nuovo regolamento SEC 2010 e in questo ambito è in corso un'attività di revisione delle metodologie di stima del settore non profit in modo che consentirà quindi di inglobare le informazioni fornite con il censimento delle istituzioni con riferimento all'anno 2011 allora il settore non profit è definito con riferimento proprio alle unità istituzionali oggetto di rilevazione della della rilevazione censuaria rispetto quindi alle unità rilevate si è condotta un'attività di integrazione proprio a partire dalla lista censuaria di partenza in modo da assicurare l'esestività delle stime di contabilità nazionali per cui sono state recuperate da fonti informative le informazioni sulle istituzioni non profit attive le basi informative utilizzate quindi si fonda sulla rilevazione censuaria integrata però con altre fonti allora in primo luogo per le cooperative sociali le informazioni censuare sono integrate con la base dati sui risultati economici delle piccole e medie imprese sull'indagine sul sistema dei conti delle imprese con oltre 100 addetti e con le informazioni presenti nell'archivio Asia per le altre invece istituzioni quindi diverse delle cooperative sociali è stato svolto un lavoro di integrazione delle fonti della rilevazione censuaria con le informazioni presenti in altri archivi amministrativi allora in questo ambito quindi si presentano alcune diciamo sensazioni sulle alcune indicazioni sulle elaborazioni che sono state condotte sino ad oggi sono elaborazioni provvisorie perché appunto il processo di revisione in corso sono informazioni che non sono ancora entrate completamente nel sistema di produzione dei conti nazionali per cui si confrontano le informazioni dal lato offerto con le informazioni dalla domanda per assicurare quindi l'equilibrio della produzione e della allocazione di questa e oltretutto è ancora in corso un lavoro di analisi e di approfondimento sia per la valorizzazione delle istituzioni per le quali non si dispone di informazioni censuarie quindi le unità integrate e per quanto riguarda appunto le unità rilevate nel censimento si stanno conducendo approfondimenti per spiegare le diversità di comportamento che istituzioni con caratteri che presentano istituzioni con caratteri strutturali simili proprio attraverso questa attività di integrazione con le altre fonti informative quindi il quadro che emerge al momento sulla base appunto che va preso con le dovute cautele è che il 35% delle unità istituzionali è market a questo corrisponde il 90% dei lavori dipendenti e contribuisce alla formazione del 75% della produzione del totale del settore non profit e alla formazione dell'85% del valore aggiunto realizzato dal settore non profit le istituzioni market presentano il 36% dei volontari e in questo caso si parla proprio del numero dei volontari non è stata fatta ancora alcuna elaborazione sulla quantità di lavoro effettivamente offerto come si ricompone la presenza quindi di operatori market non market per settore di attività economica vediamo che c'è una concentrazione delle istituzioni non market nel settore delle attività ricreative e culturali e delle organizzazioni associative le istituzioni market prevalgono diciamo nel settore dell'istruzione dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza sociale dove si concentra oltre il 90% dei dipendenti e in termini di valore aggiunto contribuiscono a formare diciamo la maggioranza del valore aggiunto realizzato dagli operatori non profit in questi settori di attività economica la distribuzione del numero delle istituzioni per settore di attività economica vediamo quindi la distribuzione interna vediamo che le istituzioni non market prevalgono nel settore delle attività ricreative e culturali e nel settore delle organizzazioni associative però ci sono delle diversità per insomma la distribuzione anche per gli operatori market presenta una si configura simile diversamente diciamo che emerge che il 50% dei dipendenti degli operatori market si concentra nel settore delle organizzazioni associative mentre oltre il 40% degli operatori non market è presente nel settore dell'assistenza sociale e percentuali vicino al 20% per quanto riguarda l'assistenza sanitaria e l'istruzione la formazione della produzione del valore aggiunto la produzione degli operatori market si concentra come appunto nel settore delle organizzazioni associative e delle associazioni delle attività ricreative mentre nel caso degli operatori non market vediamo che prevale prevalente la formazione sia della produzione che del valore aggiunto nel settore dell'istruzione e segue quello dell'assistenza sociale e qui adesso serve un contributo della platea in quanto come definizione di unità istituzionali noi abbiamo ritenuto opportuno dare non declinare immediatamente il concetto di rilevanza economica delle unità istituzionali e quindi tagliare le unità da attribuire automaticamente al settore delle famiglie ma abbiamo analizzato quindi gli operatori market e non market a prescindere dalla tipologia di input di lavoro presente sulla base dell'analisi dei dati sensuari è emerso che il 60% degli operatori market non hanno input di lavoro retribuito nel caso delle istituzioni non market il risultato era atteso ed è l'86% si tratta di unità che prevalgono nel settore delle delle attività ricreative e culturali delle associazioni di attività delle associative e in un caso le loro appunto i loro costi sono costituiti prevalentemente d'acquisto di beni e servizi sono coperti da vendite sul mercato nell'altro caso prevale la copertura attraverso le quote degli aderenti sono operatori però che svolgono poi un'attività redistributiva noi appunto a fronte di questi operatori che vendono sul mercato abbiamo consumi delle famiglie vendite sul mercato e quindi correttamente applicando le regole del SEC dobbiamo assimilarli agli altri operatori market e quindi classificarli nel settore delle società non finanziarie prevalentemente il risultato ci ha sorpreso non ci aspettavamo questa evidenza infatti sono operatori che qui il problema però è capire adesso nel momento in cui caliamo queste informazioni nel sistema dei conti nazionali dall'altra parte il settore delle famiglie come percepisce questa sono operatori la cui finalità è la produzione di beni e servizi destinati alle famiglie il settore è quello noi dall'altra parte le caliamo queste informazioni nel nostro sistema e dobbiamo trovare una domanda quindi nel caso di operatori non market la domanda la imputiamo quindi creiamo in quanto questi operatori fanno dei trasferimenti alle le famiglie in questo caso fanno dei trasferimenti nel caso appunto sì scusate dobbiamo andare avanti il dibattito segue allora le conclusioni qua ci sono indicazioni molto diciamo sul peso che presenta il il settore non profit sulla base delle elaborazioni fin qua condotte nel non avendo appunto un termine un denominatore a cui applicare questa stima non avendo quindi concluso il processo di revisione dei conti abbiamo fornito un'indicazione sul valore aggiunto delle istituzioni non profit che emerge dall'elaborazione sin cui condotto ponendolo a confronto su quello che attualmente è presente nei conti nazionali rispetto alla stim al valore aggiunto del totale economia pubblicato basato appunto sul regolamento SEC 95 queste sono le differenze che emergono e quindi un minor peso in termini di produzione e un maggior peso in termini di produzione che cosa ci aspetta allora dobbiamo naturalmente compilare terminare la compilazione dei conti economici degli operatori non profit che sono rappresentati in tutti i settori istituzionali e quindi integrare queste analisi fin cui condotte anche con l'analisi delle fonti di finanziamento verificare l'accorenza con le altre fonti informativi che mi ergono dai conti delle imprese e conti dell'amministrazione pubblica nel medio periodo che cosa ci ripromettiamo di compilare la integrazione quindi delle stime core della contabilità nazionale con una valutazione della produzione offerta dagli operatori market e non venduta sul mercato e con una misurazione della produzione realizzata dagli operatori con l'impiego di lavoro volontario ora in qua entra oltre le informazioni censuarie anche le informazioni fornite dall'indagine che conduce l'istat l'indagine multiscopo sulle famiglie sull'utilizzo del tempo grazie grazie stefania scusami ma qui fra sei minuti è previste le conclusioni del presidente di tutta la giornata e quindi le altre sessioni mi hanno comunicato che una è conclusa e l'altra sta scordando che stiamo per essere invasi quindi purtroppo non abbiamo tempo per un minimo di dibattito speravo ci fosse non devo certo fare delle conclusioni però vorrei credo mi corra l'obbligo di due sottolineatore uno mi fa piacere rispondere a quello che ha chiesto il dottor Giovannetti sul problema della creazione da parte dell'istat è un archivio in cui si linkino imprese e lavoratori questo l'abbiamo realizzato si chiama ASIO Occupazione è un archivio di tipo lead linked employer and employee database è disponibile dal 2011 l'anno del censimento maggio massimo giugno sarà caricato sul data warehouse dell'istituto e quindi avrete la possibilità di fare questo essendo un prodotto nuovo ci aspettiamo anche da voi suggerimenti su come arricchire le elaborazioni le modalità poi di rendere disponibili fatti salve i problemi di riservatezza su cui non ci possiamo fare nulla chiusa parentesi queste nuove informazioni seconda osservazione con cui voglio concludere non è una conclusione questa è per quanto riguarda l'istat e lo dico ufficialmente un'apertura di un dibattito sapete che l'istat con la tornata 2011 ha concluso la tornata dei censimenti decennali ha aperto la tornata dei censimenti continui noi dobbiamo mettere in piedi il censimento continuo anche del settore non profit o del settore non profit dell'economia sociale o di che cosa altro possiamo decidere insieme vista e questa esperienza ci è servita la rilevanza delle informazioni di carattere economico che possono semplificare l'indagine così come era stata fatta nel 2011 questo significa che ci sono spazi a parità di costi per inserire cose nuove e quindi mi auguro che il dibattito innanzitutto tra le persone che hanno presentato le relazioni ma anche tutti i presenti ci aiutino a impostare questo nuovo censimento continuo che può avere margini di innovazione non trascurabili vi ringrazio tutti e passiamo la parola al compresidente per le conclusioni grazie a tutti